Credo che questa sconfitta sia imputabile primariamente alle divisioni che si sono vissute con il patto civico perché in questa seconda fase di balottaggio il leader del patto civico, l'avvocato Luparella, ha dialogato con me, mi ha sottoposto un documento, un documento che doveva essere sottoscritto, io avevo dato l'ok, lui ha scritto su Facebook che questa cosa non era vera e invece da persona seria che sono, e credo che mi conosce la maggior parte della città di Ariano, ribadisco che la trattativa era in corso, non è avvenuta per i veti che mi sono stati dati e sono stati dati tutto al centro-destra, credo che abbiano dato forte indicazione di voto a Franza, quindi la sconfitta è nel centro-destra, certamente devo fare i complimenti al sindaco Franza per aver ottenuto questo risultato brillante, vi faccio auguri di un bocca al lupo, lavorare soprattutto nel bene della città questa volta non ha scuse, ha fatto una campagna elettorale dicendo che non ha avuto l'opportunità di amministrare, ora non ha nessuna remora, deve dimostrare quello che sa fare, ha proposto un programma vuoto di contenuti, la gente lo ha accettato e che ben venga la democrazia ovviamente. Da oggi si riparte, il centro-destra sarà ricostruito, nuovi volti, nuova classe dirigente, io sarò l'unico punto di riferimento e quindi tutte queste scorie che il centro-destra ha vissuto nell'ultimo periodo devono essere allontanate, credo che queste persone che abbiano inquinato il centro-destra dall'una e dall'altra parte debbano farsi da parte, io farò un'opposizione che è vigile e attenta, costruttiva soltanto sui grandi temi, vale a dire la sanità e le grandi infrastrutture, quali l'alta capacità, ma sarò attentissimo ad andarmi a studiare qualsiasi delibera che sarà fatta dalla Giunta perché i personalismi e i favoritismi di cui già in campagna elettorale il centro-sinistra non è stato portavoce, saranno banditi e saranno messi certamente all'opposizione.